Stiamo rientrando da Scafa, abbiamo avuto un incidente di percorso, ci troviamo sopra un carattrezzi, mezza squadra della Virtus Castelfrentana rottamata al momento. Dopo la vittoria di Scafa qualcuno ci ha tirato i piedi, stiamo adesso facendo rifornimento, non la macchina ma il carattrezzi, guardate da davanti, c'è Damario che se lo ricorderà bene questo gol che ha fatto oggi, c'è anche Giovanni Di Giulio, dietro c'è il mister che ha tutto il tempo di studiare la strategia per la prossima gara interna, dopo c'è Fabio il casciamortaro al posto di sfatare la sfortuna, dopo c'è pure Angelo, un nome di fatto proprio, dopo che c'è ancora? Lombardi, allora ve lo ricorderete questa vittoria? Indimenticabile, bene bene, fra poco usciremo a Lanciano, ci aspetteranno i tifosi esultanti, tanto al posto del pullman scoperto passeremo in sfilata con attrezzi, ok, arrivederci, non so quando, belle cose, a posto, a domenica tutti allo stadio lì, mister l'ultimo saluto? Saluto dalla stampa, bene, Fabio, funerale in vista? Adesso mi sto collegando e non c'è niente, niente, non c'è niente, eh, un funerale, oggi come si è abbaccata questa macchina? come si spegne? qui perché